Nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato che andremo alla scoperta dell'Isola d'Elba. Ma in che modo lo faremo? Oggi iniziamo a scoprire alcuni degli eventi clou dove l'occhio di Icarus non mancherà. Rio nell'Elba sarà sede della tappa ilbana dell'Urban Down Halley, ovvero la versione del Downhill immersa nelle città e nei borghi storici. Pochi chilometri più est, sulla costa orientale, troviamo invece la partenza di Miniera Trail di Rio Marina. Un impegnativo trail running con due percorsi competitivi immersi nei vecchi sentieri minerari. Uno di 47 chilometri e 2400 metri di dislivello e uno di 23 chilometri con 900 metri di dislivello positivo. Scopriremo altri eventi nelle prossime settimane. Elba Sports, non mancate! Art. Grazie per la visione!